Inaugurazione sabato 27 maggio al Museo Mine di Castelnuovo dei Sabbioni della mostra a Mitra un dio dimenticato in Valdarno che riporta nel nostro territorio la tauromachia scoperta oltre 40 anni fa proprio nel comune di Cavriglia. L'esposizione poi rimarrà fino a fine 2017, l'inaugurazione è fissata per le 11. Finalmente dopo tre anni di lavoro siamo riusciti a poter inaugurare la mostra della tauromachia che fu rinvenuta a Cavriglia nel 1976, una statua importantissima che simboleggia l'importanza del territorio del Valdarno di Cavriglia in epoca romana. Fu ritrovata da due giovani Gianni Grotti e Mauro Ferrucci per caso che stavano giocando con un carretto a sterzo e appunto fecero questa incredibile scoperta. Una scoperta che è rimasta occultata per 40 anni ora da le cantine del Museo Archeologico di Arezzo siamo riusciti con la collaborazione dell'Istituto Camnes e la soprintendenza archeologica a riportarlo a casa, riportarlo nel comune di Cavriglia qui all'auditorio Unmine sabato mattina alle 11 inaugureremo questa mostra che rimarrà aperta fino al prossimo 31 dicembre. Il culto mitraico peraltro presenta alcuni punti in comune con il cristianesimo. La figura di Mitra e la figura di Cristo sono figure per certi versi entrambi ovviamente culti monoteisti ma che hanno delle analogie quindi sarà molto interessante capire chi era Mitra, che storia ha alle spalle un dio che viene dall'Oriente importato dalle legioni romane qui in Italia più o meno nel secondo secolo dopo Cristo e perché era venerato proprio nel territorio del Valdarno di Cavriglia. Si presuppone e questo è una scoperta che ha fatto Alvaro Tracchi negli anni 60 che i romani a Cavriglia avessero una casa, una manzia, una villa, probabilmente un villaggio molto importante e quindi forse è per questo che il culto di Mitra si fosse diffuso anche nel nostro territorio.